Ciao ragazzi, io sono Revenzo e qui in compagnia mia c'è Alessandro Digitale. Ciao ragazzi! Ciao! Ok, praticamente sto registrando con il computer di mia madre, che me l'ha prestato per fare proprio questo video. Praticamente questa ha una fotocamera frontale, abbastanza grande, mi pare che da 6-7 megapixel, qualcosa del genere. Ah, comunque Alessandro mi vuole dire una cosa importante. Ciao ragazzi, mi iscrivetevi al mio canale, mi piace che mi piace. Non hai pubblicato più video, quindi è ovvio che non ti seguono più. E lo sto mettendo qua. Cazzo, Peterino. E vedi di metterlo allora, no? Oh, secondo me che mi sono fatti riservi. Allora, finalmente l'ho ripreso a fare con YouTube Capture. L'ho ripreso a fare con YouTube Capture, quindi, poi userò anche la videocamera. Così, prenderò anche, in questi giorni prenderò anche la telecamera, la videocamera per fare video. Comunque, sono riuscito, sono riuscito, tra virgolette, sono riuscito a fare lo sponsor di un canale YouTube creato sempre da me, ma non è mio. No, l'ho creato, l'ho creato per un mio amico che vabbè, lo conoscete già chi è, Andrea Martilotti. Che ha creato il canale chiamato Reddigi. Però non c'è il nome, quindi, si iscrivete a Andrea Martilotti, vi esce. Allora, prima ho cercato, ma non ho visto niente. Vi proverò. Poi guardo sempre lo schermo del computer quando devo guardare qua. Boh, vabbè. Allora, lui, prima di chiudere, vi vuole dire un'altra piccolina, un'altra piccola cosa. Oh, ragazzi, perché io non stai a dire, devo fare un piccio. Ah! Ho spuntato. Ah, mi sono spuntato qua. Ah! 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 Chiud kau! Ingham! Ah! Complimenti! Complimenti, Andrì. a grazie a tutti vabbè comunque io posso concludere qui lasciate un commento un bel mi piace iscrivervi al canale sia mio che il suo quanto sei grasso peggio di andare anzi no andrea no nessuno allora lasciate un bel commento un mi piace iscrivetevi al canale sia mio che il suo che di andrea martinotti lasciate un bel commento un bel mi piace niente ci rivediamo nel prossimo video ciao ragazzi e lo vi saluto ciao